Certo, certo, perché fa parte della guerra all'ONG che per essere chiara non ha cominciato Salvini, ha cominciato il suo predecessore, Minniti. Salvini l'ha interpretato a modo suo da burino qual è, ma la politica l'ha cominciata Minniti, quindi sia la politica di respingimento dei migranti, che è un atto disumano, sia la politica di criminalizzare l'ONG. Ma insomma, se noi viviamo, immaginiamoci un mondo in cui incontriamo un ferito per strada e ci giriamo dall'altra parte e se qualcuno cerca di aiutarlo gli diamo una botta in testa. Questo è il mondo che vuole Salvini, questo è il suo mondo. Quindi bisognerà cambiare rotta. Qual è la soluzione, non per sconfiggere, ma per comunque affrontare questo clima d'ordio? La soluzione è semplicemente quella di far piazza pulita di questo coacervo di fascisti e coglioni. È l'unica soluzione. Sì, Salvini and Company. Spero che questo succeda perché io continuo a credere che gli italiani non siano così coglioni e non siano così fascisti.